E' questo il documento conclusivo presentato dall'Assemblea Generale circa l'inquinamento idro-atmosferico nel territorio travigliese, che prende in esame la precisa denuncia ricevuta da parte di 300 cittadini abitanti nella zona di influenza degli scarichi di alcune industrie locali. Essa tende a promuovere considerazioni e iniziative che non possono più tardare e devono raccogliersi in provvedimenti finalmente efficaci sul pieno rispetto dei principi ecologici. Il Comitato ha lo scopo di rimuovere l'inerzia delle autorità politiche e amministrative che non hanno raccolto fino ad oggi le denunce avanzate dimostrando così di non saper imporre le giuste e preminenti valutazioni dell'interesse pubblico e soprattutto della pubblica salute, contrapposte agli interessi privati e di parte. Noi rigettiamo ogni tentativo di insabbiare. Grazie. 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 a chi possa essere, sia anche il Presidente della Repubblica, le ripeto che i risultati delle analisi saranno spediti oggi stesso alla Commissione Inquirente, ma che cosa vogliono farci cascar la piccia addosso? Avalci. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.